Eurogoal di Sabiri durante la gara amichevole Besiktas-Sampdoria. Il calciatore blucerchiato ha centrato il bersaglio grande da centrocampo con un tiro dall'alto tasso tecnico. Una prodezza che da sola è valsa il prezzo del biglietto. I tifosi, al bel gesto tecnico, hanno reagito con un bel applauso. Sabiri è stato abbracciato da tutti i suoi compagni di squadra della Sampdoria che si sono congratulati con lui. La partita è poi terminata 1-1. Il futuro di Sabiri in Serie A promette davvero benissimo. Per il momento è tutto, non ci resta che tenervi, come sempre, aggiornati in tempo reale con notizie tempestive. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se vi va iscrivetevi in massa al nostro canale YouTube. Grazie